Sei decessi nelle ultime 24 ore, il covid fa ancora morti in provincia, questo il bilancio che si legge dal report inviato quotidianamente dall'ASP. Sono 332 intanto i pazienti positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, dei quali 67 sono di calzanissetta, la curva per il capoluogo è in discesa. Sono 100 invece i pazienti positivi riscontrati a Gela. Per ciò che riguarda i ricoveri nei reparti sia di terapia intensiva che di malattie infettive, in malattie infettive il numero dei ricoverati scende, sono 59, resta stabile invece il numero dei ricoverati in terapia intensiva, sono 4. In tutto sono 3.686 i positivi in degenza domiciliare in tutta la provincia.